C'è poco da dire, infatti non ho trovato neanche l'esigenza di fare subito questo video La Roma che pareggia, cioè il Genoa pareggia con la Roma all'ultimo secondo Per colpa sua fondamentalmente Sarebbe facile parlare di sfortuna, di situazioni, sicuramente ci sono state Ma un po' anche per colpa sua Perché abbiamo avuto 200 occasioni per fare il 2-0, per chiudere il risultato E non ci siamo riusciti Poi il pareggio frutto di una cosa che è successa negli ultimi secondi In cui Rosso ha dei rossi perché è volata qualche parola di troppo E quindi si è proseguito e ha portato al pareggio In quel caso bravo il Genoa che ci ha creduto fino all'ultimo E che ha meritato di fare un punto nel suo stadio Però sì, sicuramente fosse finita 1-0 Staremmo parlando di tutt'altro Perché è anche giusto così La Roma mi è piaciuta Mi è piaciuta, sicuramente ha giocato Sicuramente mi è piaciuta la scelta di mettere con il titolare Che dopo la partita con la Juve e il nazionale ha convinto Pisilli titolare per la seconda volta consecutiva Finalmente è rientrato il Chagawi Che non si era capito cosa era successo Dobbic ha segnato, sono contento Infatti c'è stato un problema al Barra Che ha fatto aspettare un bel po' Prima di avere la conferma che il gol fosse regolare Però contento per lui che si è sbloccato Quindi spero che sia in fiducia Che possa continuare a fare tanto altro Sarebbe stato bello se fosse avvenuto con una vittoria Però insomma è andata così Roma che quindi fa 3 punti nelle prime 4 partite In cui le parliamo tutte E perdiamo quella con l'Empli in casa Che devo dire? Beh non saprei Non saprei perché la vittoria era fondamentale Cioè noi facendo questo pareggio Praticamente siamo riusciti quasi a fare peggio Dell'inizio della scorsa stagione Nella scorsa stagione la Roma che fa Un punto in 3 partite Anzi no 4 punti in 4 partite Tu qui fai 3 punti in 4 partite E' incredibile questa cosa E' veramente incredibile C'era C'era la possibilità che Un pareggio con la Juve potesse essere magari un segnale Che si stava facendo qualcosa Evidentemente no Evidentemente con la Juve ci hai pareggiato Perché loro non hanno fatto chissà che E tu perché avevi una grossa sterilità offensiva Questa sterilità offensiva non c'è stata Perché? Perché il gol è arrivato su deviazione Bello Ricercato Per carità complimenti Ma non è cambiato molto Non è cambiato molto C'è un gioco ma Non c'è Non è quella squadra che c'era l'anno scorso Quando c'è stato Quell'onda emotiva Improvvisa Che ha portato a quella serie di risultati utili consecutivi Io non vorrei tirare conclusioni a frettate Ma potrei pensare tranquillamente Che si sia spezzata Questa maledizione Questo incantesimo Secondo me si Si è spezzato l'incantesimo Siamo diventati una squadra normale Con i suoi giocatori Un allenatore Che fa vedere Quanto oggettivamente E non Per un discorso di incapacità Ma oggettivamente Comunque ha L'esperienza che ha Perché Che è arrivato soltanto a metà campionato L'anno scorso Con Sei partite di Serie B Sulle spalle Si vede Quindi la differenza E siamo ritornati a essere In una squadra normale Con Cristante e Pellegrini Che erano giocatori Più sulla bocca di tutti Visto che non stanno Convincendo proprio I tifosi E oggi Cristante Titolare Di nuovo Non ha convinto A me è sembrato Insomma Che ha fatto il suo Pellegrini Che se non sbaglio È entrato Nel secondo tempo Sul finire del secondo tempo E Insomma Ho visto solo una punizione Che ha tirato Diciamo Diciamo che la partita Nel complesso Non è stata entusiasmante E niente Comunque finisco qua Non ho altro da dire Io non ho ancora visto Il calendario Ma comunque Vabbè Speriamo che finisca presto Questa cosa Perché non ce la faccio Grazie di aver visto Questo video Io vi invito Ad iscrivervi al canale Attivare la campanella Per rimanere aggiornati Su ogni contenuto Mettete like Commentate Se Se volete farmi sapere La vostra Forza Roma Come sempre Buona domenica Buona domenica